Rimaniamo in tema Covid. L'ospedale Perrino di Brindisi è riuscito a trattare più di 200 pazienti positivi al coronavirus, ma con altre patologie grazie all'area mista che decongestiona l'intera struttura, il servizio di Alba di Palo. Sono più di 200 i pazienti positivi al coronavirus, ma con necessità cliniche diverse da quelle direttamente legate al Covid, trattate in tre settimane nell'area mista dell'ospedale Perrino di Brindisi. Lo rende noto la ASL Brindisina spiegando che ogni giorno i 20 posti letto ricavati negli spazi di chirurgia plastica accolgono una media di 8 adulti e 5 bambini, contribuendo così a decongestionare sia i reparti Covid sia i non-Covid. L'area mista del Perrino, spiega il direttore generale della ASL Giuseppe Pasqualone, è un esempio virtuoso. Non è saltato un solo intervento chirurgico tra quelli programmati e urgenti. La gestione dinamica dei posti letto in ambito dipartimentale è essenziale per evitare rallentamenti e ritardi in tutto il presidio ospedaliero, riuscendo a non intasare le unità riservate agli utenti con una patologia da Covid importante, senza dover attendere la negativizzazione per trattare altre patologie. In questi mesi l'ospedale di Brindisi è diventato il punto di riferimento per diverse patologie. La struttura infatti ospita un sempre maggior numero di pazienti provenienti da altri territori, rendendo indispensabile il nuovo assetto organizzativo e ottimizzando le risorse a disposizione per garantire il miglior servizio possibile.